S.A.R.O. Vacanti In altri tempi un problema come questo veniva risolto in tempi rapidissimi? Sì, in altri tempi quando parliamo dell'USL numero 28, quando io ero consigliere all'ospedale di Lentini, questi problemi venivano risolti subito. Perché? Perché c'era l'Assemblea e il Comitato di Gestione. Oggi non abbiamo, nell'Assemblea e nel Comitato di Gestione. Si trova il manager a Siracusa. Quindi i problemi sono molto staccati dal posto dove c'è l'ospedale. Ma non significa questo che la gente deve andare all'ospedale e deve fare centinaia di metri a piedi, ma non solo a piedi, ma solo di salita. Per ultimo c'è una scalinata che lei ha visto sicuramente, che se uno deve fare un tracciato, quando se lo fa, quando arriva a piedi, non so come, risulta molto. Praticamente, comunque, a parte lo scherzo, io dico questo. Che questo problema, già da mesi che si discute a Lentini, a Carlentini, a Francofonte, è chi viene all'ospedale di Lentini. Perché questo ospedale di Lentini, voglio ricordare a me stesso e a tutti quelli che ci ascoltano, è stato scelto per il posto strategico che copriva tutta la zona. E di dove si arrivava era facile e non si doveva attraversare neanche la città di Lentini. Quindi è stato fatto questo ospedale qua per un posto bellissimo. E noi abbiamo questa struttura che è bellissima. Abbiamo dei medici bravi a Lentini, vengono qua di mezzo a Sicilia o addirittura di tutta la Sicilia, perché giornalmente uno che viene all'ospedale, vedete persone che vengono, addirittura l'altro giorno mi trovavo qua con il mio suoccio, c'era gente che venivano di Cesarò per venire a Lentini a fare le visite nella chirurgia, perché avevano indicato che qua c'era la medicina buona, diciamo a Lentini medici buoni. Ora io dico questo per concludere, risolviamo prendendo questo problema che è un anziano che deve andare, perché ora poi ci sono stati qua traspariti anche l'ambulatorio, perché prima erano all'exinam, quindi qua all'ospedale vengono tutte le persone anziane, meno anziane, persone disabili, non abbiamo le strutture. Ora io dico che i consigli comunali, soprattutto di Lentini, Callentini, Francofondi, i sindaci, si debbano mettere in modo che dobbiamo salvaguardare questo ospedale, che ce lo invidiano tutti. Tutti noi abbiamo, non un ospedale, noi abbiamo un abbergo a Callentini, lo diciamo a voce alta. Io mi ricordo una sera sono venuto qua con il presidente allora Guido Grande, quando abbiamo scelto questo posto ero io, Guido Grande, Paolo Innocente e Elio Magnano. Era una sera del mese di febbraio, nell'82-83, prima di fare la delibera per la costruzione dell'ospedale. Era meraviglioso qua, quando noi siamo qua, siamo visti l'Etna che era coperta di neve, una luna bellissima, il punto qua è bello, ora noi lo dobbiamo salvaguardare. Io suggerisco come è il mio costume di fare, perché io quando ero consigliere comunale a Callentini due o tre volte l'anno facevamo, su mia proposta, potete andare a vedere gli atti al comune di Callentini, facevamo consigli informali sulla sanità del triangolo, perché quello che ci fa forte soprattutto è il triangolo, ma io ora allargo di più, noi abbiamo un'utenza che è Lentini, Carlentini, Francofonte, Melilli, Sortino, Buccheri, Vizzini, Melitello, Palagonia, Scordia che vengono tutti qua, ci limitiamo a questo punto. Ora io lancio un appello di fare un consiglio di tutti i sindaci, di quelli che ho poco fa nominato, con tutti i consigli comunali, a Lentini, se qualcuno non lo fa che ci ascolta, mi faccio promotore di infiare le lettere io, troveremo il local dove farlo, però si deve fare prima delle ferie, dobbiamo affrontare questo problema dell'ospedale di Lentini, lo dobbiamo salvaguardare e tutta l'utenza che io ho citato poco fa deve essere coinvolta, perché con le battaglie, con le lotte si possono vincere come abbiamo vinto la battaglia dell'ospedale di Lentini che è stata dura ma l'abbiamo vinto e oggi abbiamo questa grande struttura che è meravigliosa e la dobbiamo noi salvaguardare.